L'assessore Pitrolo, questo importante passo in avanti, piano integrato a Iungi, che cosa vuol dire per la comunità e per lo stesso quartiere? È sicuramente il primo passo per una ripresa, abbiamo parlato tantissime volte di rigenerazione, di riqualificazione, insistendo molto sulla nostra periferia e questo è proprio il primo passo che attiverà una nuova rinascita per Iungi. In che cosa consiste questo intervento, in poche parole? Quindi è un intervento che vedrà la realizzazione di immobili di tipo residenziale, in parte a canone sostenibile, quindi edilizia sociale, e avrà una convenzione che prevede la realizzazione di opere pubbliche. Nella fattispecie sarà risistemata l'area circostante il ciccio scapellato, sarà ampliata la farmacia comunale e sarà realizzata una zona giochi per bambini. Un beneficio per il quartiere, ma più in generale per la città? Sicuramente un beneficio per il quartiere perché avrà un nuovo spazio da vivere liberamente, però è un grosso beneficio per la città che darà nel suo ingresso come prima immagine un luogo riqualificato. Grazie. 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 Grazie.